Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Rallentamenti dopo un incidente in A11 tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze. Personale su strada in A1 tra Sasso Marconi e il Vivio A1 variante di Valico in direzione Firenze, mentre in direzione Bologna c'è un veicolo in avaria. Torniamo in A11, rallentamenti anche tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze. E veniamo a Firenze, proseguono le operazioni di soccorso in via Mariti, nell'area via Mariti, via del Ponte di Mezzo, via dei Marignoli, è stata istituita la chiusura di via del Ponte di Mezzo. Infine sulla A1 direttissima, giovedì 29, orario 21.6, sarà chiusa la A1 variante verso Roma e gli svincoli di Badia e Firenzuola in entrata verso Roma in uscita provenendo da Bologna. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.